Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo capitolo di Wolfenstein Volevo scusarmi con tutti che ultimamente non sto mettendo molti episodi anche perché come ben sapete è stato anche per me e quindi sono un po' impicciato anch'io Vabbè passiamo subito a nuovo capitolo però mi rimasti che dovevamo derubare dei nuovi tipi di elicoteri che stiamo riuscendo poi a prendere siamo tornati alla base e ci hanno chiesto subito di staccare un pezzo di muro un pezzo di muro che è tipo un super muro, non ho capito che cazzarola c'è questo muro però è tipo indostruttibile e ora dobbiamo però andare a salvare qualcuno come sta spiegando adesso Vabbè detto questo vi lascio vedere un nuovo capitolo come sempre e vi auguro una buona visione e come sempre un buon divertimento a tutti l'unico sopravvissuto dei Das Heikert Il problema è che ci sono molte incognite parliamo di un anziano, potrebbe essere già morto non possiamo assaltare un luogo come quello e sperare di trovarlo prima che arrivi tutto l'esercito nazista Quindi qual è il piano? Qualcuno deve andare laggiù e trovarlo sotto copertura Qualche volontario? Sei pronto per lavorare, Blazkowicz? Che stupido e presuntuoso non si può essere pronti a una cosa simile Questa attraverà VOTE Non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so. Non so, non so. Non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Un buon trucco se vuoi liberarti delle guardie. Non so, non so, non so, non so. Milo, so dove tengono tua moglie. Cosa? Chi sei tu? Sono nel suo stesso blocco. Sei sicuro? Non è morta? Oddio, oddio, evviva. Se accetti di scambiare le uniformi, potrei vederla di persona. non so, non so, non so, non so. la l'altro, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so. Spero troverai quello che cerchi, amico mio. Io sono bombate. William J. Blazkowicz, fa' attenzione. Attenzione! Ho sentito parlare di luoghi simili. Auschwitz, Buchenwald, da est a ovest. Tu? Per caso hai visto mia figlia? Seth Rott. Guarda questo Shimshon. Che muscoli. Un fisico davvero guerriero. Tu sei Seth Rott. Non so perché, ma tu sai che sono Seth Rott. Sei un Dasikath. La fonte della tecnologia nazista. Sono qui per salvarti. Sei qui per salvarmi. È magnifico. È qui per salvarmi. Vabbè, salvami e poi vattene pure, Shimshon. Non sprecare il tuo tempo. Ho giurato di non tradire mai i segreti degli Dasikath. La gente sta morendo. Al diavolo. La Resistenza ti chiama. Quindi è una specie di scambio. La libertà in cambio dai segreti che ho giurato di custodire. Sacrificare l'onore sull'altare della giustizia. Beh, lasciami un momento per pensarci, Shimshon. Buon abito, Pfander. Qui si chiama direttore Engels. Ecco ti la mia proposta. Aiutami a fermare questo posto e consegnerò a te e ai tuoi compagni il vero potere che custodisco. D'accordo. Sto lavorando a un progetto. Quella macchina si muove grazie a tecnologia Dasikath rubata. Io la conosco molto bene. Ora questo... Non guardarlo in quel modo. Questo... Con questo potrò controllare la macchina, sfondare i cancelli, liberare tutti. Mi manca soltanto una parte. Sentiamo. La fonte energetica. Ora, la macchina... Beh, i suoi sistemi elettrici sono alimentati da una batteria di Tronic. Potrei trovarne una alla stazione di servizio dell'edificio di comando del campo. E in un altro blocco, il blocco 6. Se riesci a disattivare i sistemi di sicurezza automatizzati posti alle uscite, potrei raggiungere il blocco 6. Credo che laggiù, nella caserma delle guardie, ci sia un modulo di controllo per i sistemi di sicurezza. Cerca un ingresso. Trova il modulo di controllo. Disattiva i sistemi e poi ritorna qui da me. Tu, amico di Seth, sei un tipo bello grosso e vedo che sei ancora in forze. Se fossi uno maggiore come te, farei qualcosa per la guardia che chiamano la lama. È nella caserma delle guardie. Gli piace trascinare i prigionieri là dentro, torturarli. Quando ha finito dalle ciminiere, esce del fumo. Oddio, che tanfo. Oddio, che anche t'ai fatto. Sì. 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 Ecco. Fatto. Sì. Sì. Deve essere questo. I comandi per sistemi di sicurezza disattivati. Devo trovare sì. 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 Hai fatto la cosa giusta, vero? A volte è difficile capire cosa è giusto. È il tuo primo inverno. No. A volte bisogna poter resistere senza ricorrere alla violenza. Una minima modifica alle sostanze chimiche destabilizza la miscela. Erode la solidità strutturale e sviluppa la muffa. Ah. I sistemi di sicurezza? Fatto. Bene, Shemson. Com'è... Com'è che ti chiami? Blazkowicz. Blazkowicz. Sì. Blazkowicz. Ora... Ora che la sicurezza è disattivata, potrai superare il cancello, attraversare la fabbrica oltre il cancello blu e raggiungere il blocco 6, dove è situato l'edificio di comando. Infiltrati e recupera una batteria di Tronic. Vai in fretta prima che qualcuno si accorga di cosa hai fatto. Beatzlach. Ningola. Quello cos'è? Buona fortuna. 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 Ci siamo, edificio di comando del campo. La batteria deve essere qui da qualche parte. 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 La batteria deve essere qui. La batteria deve essere qui da qualche parte. La batteria deve essere qui da qualche parte. La batteria deve essere qui. La batteria deve essere qui da qualche parte. Il tuo grasso sciolto. Il tuo grasso sciolto. la batteria deve essere qui da qualche parte. 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 Sì, sì! 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 Sì! Sì, sì! Sì! Sì, sì! Sì! Sì, sì! Sì, sì! 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 Sì!